Sorridenti dal letto di ospedale, i 12 ragazzi rimasti intrappolati nelle grotte di Tam Luang in Thailandi hanno inviato un videomessaggio per ringraziare i loro soccorritori. Giacomo Segantini. Comincia con l'uai, il tradizionale saluto thailandese, il messaggio dei ragazzi a quell'esercito di soccorritori venuti da tutto il mondo. Stiamo bene, dicono dal loro letto d'ospedale, grazie per averci salvati. Eccoli i cinghialotti rossi, c'è Adul, che sa l'inglese, nella grotta fatto da traduttore coi sommozzatori stranieri, membro di una minoranza etnica nel vicino Myanmar, 14 anni e nessuno dei due paesi che lo riconosce come cittadino. C'è Biu, che mostra i muscoli ed elenca i piatti a base di riso e maiale che mangeranno appena fuori. E c'è l'allenatore Ek, col suo omaggio rispettoso alle autorità, che presto dovranno accertarne le responsabilità in quanto unico adulto del gruppo. Saranno dimessi tutti e 13 giovedì prossimo. Attenzione anche al benessere psicologico, si raccomandano i medici. Perciò almeno un mese a casa, niente bagni di folla, perché la linea rossa tra compassione e ossessione non venga mai attraversata. Chi invece sarà celebrato col massimo degli onori è Saman Kunan, il suo mozzatore volontario, ex Navy SEAL, morto mentre aiutava nei soccorsi lungo i cunicoli sotterranei. L'unica vittima della vicenda, ora eroe nazionale, il re gli ha concesso la promozione postuma a tenente comandante.